Siamo uno studio di progettazione. Siamo specializzati in soluzioni salvaspazio. Abbiamo pensato al futuro di milioni di lavoratori che nei prossimi anni lavoreranno in modalità smart working. Ma smart working significa anche lavoro da casa. Morare da casa, se non ci si organizza, può diventare un problema. Noi vi proponiamo delle soluzioni. Sono postazioni di lavoro concepite per lo smart working. Le postazioni artidesche hanno alcune caratteristiche in comune. Chiuse si integrano perfettamente nel vostro ambiente domestico. Da aperte diventano postazioni di lavoro ergonomiche e funzionali. Sono compatte e contenitive allo stesso tempo. Ospitano PC desktop, monitor, stampanti e tutte le vostre attrezzature. Venite a scoprire le nostre collezioni e scegliete il modello che più si adatta alle vostre esigenze. In ogni caso non abbiate timore. Contattateci. Perché possiamo personalizzare.